Un po' tre di pali su, due di suoi uizzi, e vissi dei gianni, forse i suoi uizzi. Penso tu, in 하지 cei li ? , , , , , , , , , and , kis không còn nhiều rau, ca nhau lắm. ? Cẩngra Istanbul, KYouTradama Grazie per la visione!